Anzie, fibrillazioni, perdite. Di solito le crisi di governo, in particolare nel nostro paese, facevano questo effetto su piazza affari. Normalmente, perché quella che si è aperta oggi, secondo il Comune, sentire delle piazze finanziarie è tutt'altro che una crisi al buio. Anzi, gli indizi sul dove arriverà e su chi porterà a Palazzo Chigi sono schiaccianti. E allora, chiamiamolo pure effetto Renzi, quello che ha portato la Borsa di Milano, che intorno a metà pomeriggio perdeva oltre un punto e mezzo, in controtendenza con le ultime due giornate di grandi guadagni, a ridurre quelle perdite fino quasi ad annullarle, a chiuso con un meno 0,17%. Riavvolgiamo infatti il nastro, tornando indietro alla frase del segretario del PD che ha indicato la necessità di un esecutivo di legislatura, termine 2018. Prospettiva quindi lunga, di stabilità e tempo utile anche per fare le riforme. Altra parola magica che ha tranquillizzato Piazza Affari, che da quel momento in poi ha cominciato a risalire la china, aiutata anche dall'apertura positiva di Wall Street. Stesso discorso anche per quanto riguarda i titoli del debito pubblico, con lo spread, che in mattinata era schizzato oltre i 210 punti base, ieri era sceso sotto i 200, che ha finito per chiudere a quota 204, poco più alta della chiusura di ieri, con rendimenti sul decennale al 3,7%. Un effetto lenitivo dovuto anche ai postumi dell'asta dei BTP che si è svolta questa mattina. Sul campo il Tesoro metteva titoli a 3,7 anni, indici importanti della capacità del nostro paese di finanziare il proprio debito. Ebbene, l'esito ha seguito la falsa riga di quello dell'asta dei botti annuali di ieri, complessivamente. Infatti il Tesoro ha piazzato 6 miliardi di BTP con tassi in netto calo rispetto alle ultime emissioni. Insomma, eventi di crisi politica che aleggiavano prepotentemente sul nostro paese non hanno scalfito la fiducia degli investitori, per i quali, in un anno, a partire dalle ultime elezioni, un po' di cose sono comunque cambiate.